A Corinti ha fallito a 360 gradi la sfida del cambiamento e non per gli scontrini da un euro, ma perché non è riuscito assieme alla sua giunta a migliorare la vita quotidiana dei messinesi. E' così che la pensa Angela Bottari, vecchia guardia della sinistra messinese. Non voglio entrare nel merito scontrini, non scontrini. Considero che questa città, piuttosto che del caffè del sindaco, abbia la necessità di parlare della incapacità di un'amministrazione a far fronte ai problemi di una realtà. Guardate, la città aveva avuto una rivolta nei confronti di un gruppo dirigente rappresentato da Genovese, perché per questo vince a Corinti, perché c'è un voto contro Genovese e quindi il PD ne fa le spese. Ma proprio per questo a Corinti aveva un'occasione storica, perché non veniva dalla politica con la P maiuscola, veniva dalla strada, ma intendiamoci, veniva dalla strada nel senso che era uno che si occupava di problemi diversi da quelli, faceva battaglie civili, faceva l'insegnante di educazione fisica, cioè era un outsider, è un outsider. Ma proprio per questo avrebbe dovuto attorniarsi di persone capaci, senza interessi nei confronti della città. La botta rifà il punto anche sulla situazione di stallo del Partito Democratico, fermo al pretesseramento e senza una componente direttiva che possa rimetterlo in carreggiata. Il PD dovrei dire che non esiste, perché noi siamo tutti preiscritti e nessuno è iscritto, quindi credo che in nessuna città d'Italia questo sia avvenuto. D'altra parte in una situazione difficile, il fatto di non avere un gruppo dirigente, io non sono per una guida forte.